e riviusi a sml ciao a tutti come state? spero tutto bene oggi faremo un video patatine 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 siamo pronti a gustarci il nostro pandoro ciao a tutti Grazie. Patatine. 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 Bene, ragazzi. E mi siamo subito. Gustarci. Patatine. 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 Sì, non è vero. C'è il nostro corso gratuito. Sì, non è vero. Sì, non è vero. Buon appetito! bellissima Sì, è molto bello. Sì, 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 sì. Buon appetito! video vi sia piaciuto, vi do appuntamento alla prossima, bacioni, ciao